eccoci qua in area youtube con la classe di dove? un urlo grandissimi ragazzi grandissimi ma presentatevi in fretta uno per uno vai con nomi Cristina senza voce Daniela Anna Chiara Stefano Giorgio Jenny un sacco di gente un sacco di gente Simone Emanuele Massimo Nadine Giovanni 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 Fantastici e cosa avete deciso di cantare stasera? Balliamo sul mondo E allora siete pronti? Sì Siete carichi? Sì Fatemi vedere come ballerete Bellissimi Allora adesso partiamo con la canzone Balliamo sul mondo interpretata dalla classe 86 di Mattia Grandissimi Baffa il culo Max Saltare 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 Eeeh Eeeh Siamo tutti nella stessa passata Quando non la devo stai C'è la iscritto della vita Non ti chiede come vuoi Ma la tua Per me è speciale Se chi può passare Ma ci hai e hai Che li sai Vogliadvi parlare Arrivabsori Non ti chiede there E passiamo sul mondo Tantare un'esperienza Mi zacciono La mia Chiede sì Noi ci voleva, facciamo far cazzo Cazzo non fa che tu non lo libera Guardiamo su, ne ho, andiamo, andiamo Sì, che classe è fatta assai Sì, non ti ho sconato in casa E' vero, non è l'idea Niente casa e niente futuro Niente c'è sempre voce mai Se da l'altrante e all'edere Non c'è molto per noi Qui con i tuoi, in questo ritardo Ci guardiamo un po' con noi Guardiamo sul posto La terra che non piace, non c'està Ci andiamo guardando Sì, non fa che non si chiedere Ci andiamo guardando Si, non ci siamo facciamo far cazzo Stosano, non ci sia, non c'assano Guardiamo un po' con noi Di dove? Stagile! Ballare, ballare, ballare! Ballare, ballare, ballare! Ballare, 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 ball Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!